determinati profili, io credo e lo ripeto perché lo sto dicendo da diverse settimane il nodo sull'esterno offensivo del Napoli del 4-2-3-1 o 4-3-3 a seconda di come decide di giocare quella settimana, quella partita Luciano Spalletti dipende da Lozano perché se Lozano viene considerato un esterno destro da Spalletti allora devi prendere uno che gioca nella posizione di insignie se Lozano che mi risulta sia lui e il suo entourage hanno fatto capire che gradirebbero giocare a sinistra, dove tra l'altro ha giocato a Bologna prima di farsi male ha fatto anche doppietta, a quel punto tu hai Lozano ed Elmas perché poi anche Elmas a destra fa fatica a sinistra gioca bene, a destra è stato disastroso quando ha giocato, quindi a sinistra hai quei due giocatori a destra hai Politano e bisogno di un altro giocatore, possibilmente Mancino ecco perché Berardi torna come idea, perché Berardi considera il suo ciclo chiuso a Sassuolo, vuole andare via in estate scorsa, vuole andare via a gennaio non ce l'ha fatta, così rispondiamo anche all'amico, vedo la domanda in grafica vuole andare via, ci riuscite non lo so, perché in questo momento il Sassuolo 30 milioni, chiede, giocatore forte ma già di 28 anni, quindi sai che le società magari si devono spendere 30 milioni, in Italia preferiscono spendere per un giocatore under 25 io li spenderei per Berardi, perché comunque in Italia se vai a vedere negli ultimi 6-7 anni tranne un anno è sempre andato in doppia cifra quindi il giocatore comunque che, l'esterno offensivo che ti fa 10-15 gol e ti fa 8-10 assist, ne vedo pochi per il nostro campionato, poi possiamo discutere a livello internazionale, ma il Napoli oggi non è che punta a vincere la Champions, il Napoli punta a fare un buon cammino in Champions, ovviamente a qualificarsi e poi provare a giocarsi con lo scudetto, qual è il target del Napoli e secondo me Berardi sarebbe un signor acquisto a che